Riprendono dopo la pausa estiva le attività del Consiglio Comunale di Napoli. Nel corso della seduta, riunita questa mattina a Via Verdi, l'Aula ha approvato la delibera per l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del Comune di 30 beni confiscati alla criminalità organizzata che saranno destinati ad attività sociali. Questi beni ritornano alla collettività, solo amministrativamente al patrimonio indisponibile, ma il nostro obiettivo attraverso un grande lavoro che fa il servizio beni confiscati con una dirigente che è molto brava, molto sensibile, cerchiamo di adempire la missione, quella che i beni confiscati sottratti alle organizzazioni criminali ritornino alla collettività, alla società civile e alle associazioni che ne hanno titolo e diritto per poter esercitare quelle attività di welfare, quelle attività di sostegno alle persone fragili, alle vittime di violenza di genere, violenza di tratta degli esseri umani e con una componente che mi piace sottolinearlo sarà anche destinata alla somministrazione di competenze dell'artigianato, cioè lavori manuali, soprattutto in favore di persone fragili, cioè dare delle competenze, fare acquisire delle competenze nelle attività artigianali, serve a dare degli strumenti di inserimento sociale e lavorativo a tanti ragazzi e a tante persone fragili.